ok non è proprio limpidissima l'acqua pescabile ma non limpidissima guarda 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 c'è qualcun altro quello lo conosco è Luca il tatuaggio è inconfondibile pantalone corto parca miseria che qui oggi sarà una sfida e lei? cosa ci fa pesca lei? sei perso per uscita te sei perso? non è tanto venino venino e cosa combina vediamo sono arrivato da poco ormai è arrivato da poco si si non è tanto vedi gli amici servono a questo quando arrivi sullo spot trovi qualcuno sullo spot che conosci e in difficoltà lo aiuti lo aiuti ci mancherebbe questa è una montatura che potrebbe essere molto interessante in realtà dal punto di vista funzionale funzionale? non ha una coroncina così stretta potrebbe essere interessante si una cappella si dunque Luca sono sicuro che lo rivedrete in diversi video sicuro anche lui è un bellibotter di quelli ignoranti a proposito devo portare la pompa nuova si anche oggi sono con la total spinning by amato la 2.12 voglio riprovarla perché mi era gustato tantissimo un'altra volta e il mulinello è il legalist 3000 c imbovinato con il 18 quindi vediamo 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 come va primo lancio ovviamente filo nuovo come va primo lancio come va primo lancio vediamo 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 se riusciamo a tirar su qualcosa di interessante oggi c'è vento e anche oggi c'è vento e anche oggi anche io nooo oh si è mossi i neri buono guatto nero guatto nero guatto nero guatto nero guatto nero detto anche muracchiotto in Ancona mi sta a suonare al telefono giallo ciao guarda ho tirato su un capocchio adesso sono AS7 bella ciao e mentre ero al telefono con Gianluca ho preso un Teston combattimento telefonico bello bello lui puntato addirittura dall'esterno che bel pesce il solito bel Testone non è enorme è il solito mezzo drago oh così si fa così si inizia male capito questa è una buca da capocchio eh perché a parte dei piccati li avevi piccati tutti le mupicati le mupicati i capocchioni comunque abbiamo male di più eh Ghiotto quanto è grosso grosso e giallo Esatto, esatto, vedi, in Ancona era a ghiotto d'allumino, guatto d'allumino, e ovviamente è angolato, 18. Gyozogo, un gone, diciamo che non è stato proprio un rilascio dei più dolci, però. Orca miseria! Sono schizzato fuori come una catapulta! Raga, ho perso un go enorme, ma veramente? L'ho ripreso! Beccate sto go! Madonna! Un gone gigante, raga! Ma do, veramente! Guarda che go! Oh, già l'ho! Un gone! La puoi aggirciare! Gone! Boom! Scomparto, esatto! Oh, ma mi ha dato, l'ho slamato e mi ci ha ridato! Non l'ho misurato, ma era un gran bel gone! Cioè, oggi non c'è più con la videocamera! Nero! Sono una macchina, raga, una macchina! Sono una macchina da sapere! No, è un altro, però è bello! Gone! Bell' pezzo! Aspetta quello tuo! Sì! Ma qua è una riunione oggi! Oggi è una riunione! Guardate quell'uomo! C'è anche James oggi! Oh, bella Jimmy! Mi serve qualcosa, posso esserti utile? Ti ricordi come funziona? C'è una macchina! Oh, tutti uguali tu! Un altro go! Sì, sì, tutte con la corda tagliata! Oh, capitano! Sì, ma te! Mi devi fare il pezzo! Ecco la bavosa! Oh, la bavosa pavone! Una bavosa pavone! Bella! Ma che bella, che bei colori! Staccava nel telefono! Staccava che verno era? Sì! No, no, ce l'hai all'anno! Ho preso la bavosa pavone! Sta! Oh! Oh! Capocchion! Capocchion! Vale bello! Il teston! Vedi il teston? L'avevo detto che c'era il teston! Sì! GG! Carino! Carino! Bello! Una ventina, dai! Una ventina, dai! Non è solo me! No! Tiello, tiello! Fallo vedere alla camera! Fallo vedere alla camera! Bello! Capocchion! Vedi? Madonna che bersi! Lo tira come un persico reale! Ha 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 ha! Versi di me a ralaggio! Come un ralaggio! Non era lui, sicuramente! Questo è un bellissimo ghiuzzo nero! Veramente nero! Madonna se è nero sto guatto! Quanto è nero! È già cambiato colore, visto? Da quando è uscito dall'acqua! Vediamo se riesco a mostrarvi la pin dorsale! Vediamo se riesco a mostrarvi la pin dorsale! Rilascio lanciato e se ne va! No! Vedete che combattimento! Chi è sto gatto? Chi è? Cosa famo qui? Eh? Banana! Tutta arruffata oggi! Eh? Sai cosa vuole? Dicci un'altra volta! Esatto! Stai, ma dicevo strano che stasera non l'ho vista ancora! Eh? Ma sei fortunato però! Guarda cosa ho preso! No! Sto, banana! Eh, eh, eh! Aspetta che te lo annocco prima! Sto, struscio! Oh! Qui! Fammi stasera, eh! Madonna! E te sta che ci sei buttato! Oh! Bavosa! Una bavosa gattoruggine! Bella la gattoruggine! Le bavose a me piacciono tanto! C'hanno dei colori veramente, veramente belli! Sono pesci sottovalutati! E questa c'ha anche i cornetti! Eccoli qui! Una piccola gattoruggine! Che è micidiale per le esche! Che le massacra! Slamati maledetta! Ciao gattoruggine! E anche oggi chiudiamo questa battuta di pesca che si è rivelata molto interessante data la compagnia! Bella James! Grazie della compagnia! Abbiamo fatto diversi bei pesci a light rock! Tanti ghiuzzi! Anzi, praticamente solo ghiuzzi! Ah, ho preso la pavone prima! E niente, detto questo, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e ricordatevi che Senpai si diventa anche pescando in compagnia! Bella!